come si chiama come si chiama lui si chiama è scritto dietro si ce l'ha tutti il nome pietro sta lasciando il suo sasso mula al rifugio palù suo sasso mula di nome no non si chiama peter o si chiama peter si chiama peter facciamo vedere un po il contesto e lo lancerò nel bosco no no ma chi è si appogge in un punto dove può essere trovato ma lì è difficile trovarlo si si vai a metterlo dove vuoi però lì di solito lo mettiamo in luoghi visibili no lì non si vede ma nessuno va dietro lì lui lo vuole nascondere non caccia il tesoro allora alla prossima puntata lo posizionerò scendendo da lì ok intanto facciamo video che lo mette ottimo va bene se ti ispira il bolla il bolla viene abbandonato il bolla viene abbandonato a rifugio palù per questo inverno il bolla viene abbandonato a rifugio palù per questo inverno